Un'iniziativa straordinaria dedicata ai nostri sanitari che vuole essere un abbraccio virtuale grandissimo per tutti coloro che si sono spesi all'interno dei nostri ospedali in questi due anni veramente difficili. L'orchestra giovanile Luigi Cherubini, il pianista David Fraile, musiche di Bach e Mozart al Tempio di San Nicolò domenica 3 aprile alle 20.30 per il ringraziamento in musica l'emozionante dedica a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti quelli che nei due anni di pandemia si sono spesi per prendersi cura dei malati. Prima per la parte del Covid, dopo anche per il discorso della vaccinazione che hanno sempre seguito con attenzione tutto. Un grande concerto con un grande protagonista, un gran pianista, una grande orchestra di giovani, venite tutti perché è fondamentale e anche per ricordare e dare un contributo anche così musicale, allegro ai nostri sanitari che hanno lavorato, ma è un concerto per la città. L'ingresso al concerto promosso da Rotary Club è libero. Uno spettacolo veramente per tutti, non solo per gli intenditori e che prevede l'offerta libera e responsabile per l'Ucraina perché abbiamo in questo momento quest'altro evento veramente drammatico che ci colpisce comunque da vicino per cui questa vuole essere musica che unisce tutti. Bisogna stare insieme con i nostri amici ucraini, dico anche con i russi, con i musicisti russi, con tutta la tradizione di quell'area geografica perché travalica le vicende del presente.